Un'altra vittoria importante oggi contro la Juve. Siamo andati in vantaggio, poi abbiamo preso un gol, ma siamo stati bravi a tenere il vantaggio e a continuare questa scia positiva per noi. Sì, un vantaggio importante, ma noi non guardiamo la classifica, pensiamo partita per partita per portare i tre punti a casa. Quest'anno è il mio primo anno in primavera e sto giocando anche molte partite, ringrazio il ministro e i miei compagni, mi aiutano sempre loro e si sta andando bene. Ho avuto qualche convocazione in Serie A con Gasperini e i compagni della prima squadra, sono state emozioni fortissime.